Meno di 24 ore per trovare una soluzione, per i lavoratori ex-SIMS è una corsa contro il tempo, impiegati in protesta stamattina all'aeroporto di Fontana Rossa, che chiedono certezze per il proprio futuro. Già qualche mese fa la SAC aveva attivato la gara per dare i nastri e gli elettrici alla nuova ditta subentrante. La ditta subentrante ad oggi ancora non sappiamo chi è, abbiamo più volte anche chiesto alla SAC di incontrarci con più di una richiesta di incontro, ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Non vogliamo ritrovarci in una condizione in cui fra qualche giorno troveremo 21 nuovi disoccupati e 21 nuovi occupati in barba alle leggi e alle norme. All'impresa catanese non è stato rinnovato l'appalto per la fornitura di servizi all'aeroporto. Da qui le sigle sindacali che puntano il dito contro la SAC. Da domani 21 famiglie saranno a casa e quindi senza lavoro e senza retribuzione. La SAC, come diceva giustamente il collega, deve dare urgentemente una risposta perché non sta applicando le clausole sociali previste nei cambi di appalto. I lavoratori devono continuare a lavorare perché la legge prevede questo nei cambi di appalto, quindi sollecitiamo per l'ennesima volta il prefetto a convocare questo tavolo. Ci riserviamo di continuare le proteste e di fare qualcosa di più eclatante per smuovere sia l'opinione pubblica, sia la prefettura e soprattutto la SAC. Grazie. Grazie.